Ed eccole qui le fasi salienti del match che cominciamo a vedere in questo momento, ricordiamo seconda gara del gruppo C, quello che comprende anche Lugano e Juventus, subito Anthony Camarni, la sua lucidità nel girare intorno al portiere e nell'infilare alle spalle di Franco Jarosevic per il gol dell'1-0. Non si ferma qui però Camarni che sarà il dominatore del primo tempo, qui rivediamo l'assist di Rhys Alexander per Camarni, molto freddo nel mettere a sedere il portiere Jarosevic, nell'andare a siglare il gol dell'1-0, poi replicato da questa rete, questa volta l'assist è di Jorge Tyric e Camarni dal secondo pallo deve semplicemente spingere la palla al di là della linea di porta per il gol del raddoppio del Chelsea. Ancora Chelsea che non si ferma, rimpallo Tyric per Camarni, il pallonietto di Camarni, il gol del 3-0, 3-0 tutto firmato da Anthony Camarni, classe 2006 nato il 29 gennaio, completa la sua tripleta. Qui però comincia davvero la partita del River Plate che prima della fine del primo tempo trova il gol con Ugo Roccas, bravo ad approfittare insieme a tutta la sua squadra di questa disattenzione, di questa leggerezza difensiva da parte degli avversari. E poi nel secondo tempo continua la rimonta del River Plate che si porta sul 3-2 grazie al gol firmato da Agustin Roberto, l'attaccante con il numero 9 che va a siglare il gol del 3-2. Poi arriverà anche la rete del pareggio firmata da Claudio Eceverri che taglia verso il palo seguito troppo in ritardo da Jacob William Pope. Eceverri infila alle spalle del portiere Tetno Hacker la situazione di parità, quel punto però il Chelsea ricomincia a prendere il controllo della situazione. Ierosevic è molto bravo su questa conclusione firmata da Russell Ries Alexander e poi ancora successivamente Ierosevic protagonista. Qui però proprio Ierosevic perde palla su questo calcio d'angolo, ne approfitta Ian Riley Court che mette in rete per il gol del definitivo 4-3. Il Chelsea vince dopo essersi fatto rimontare da 3-0 a 3-3 e qui il fischio finale che sancisce il successo del Chelsea su River Plate. Con la vittoria del Chelsea su River si chiude la prima tornata di gare di questo torneo Venice Champions Trophy.